Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, Date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri a scuola Bisogna andarci fino a 16 anni ma un emendamento al nuovo DDL sul lavoro aggirerà la legge L'emendamento cazzola al DDL sul lavoro prevede infatti che già a 15 anni si possa entrare nel mondo del lavoro trasformando l'ultimo anno della scuola dell'obbligo in apprendistato Maurizio Sacconi, ministro del Welfare, aveva lanciato la proposta già alla fine dello scorso anno e la Gelmini si è detta d'accordo con un'iniziativa che permetta un rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro Insomma gli studenti svogliati non avranno più scuse e se non amano stare sui libri potranno andare a bottega Esulta la confartigianato Abbiamo trovato con il ministro Sacconi una comunanza di vedute ha dichiarato il presidente di confartigianato Giorgio Guerrini, che va nella direzione da noi indicata già da tempo Riportare attenzione su un meccanismo L'apprendistato, che era stato scolarizzato dai governi precedenti e ora viene rimesso nel luogo dove deve stare L'impresa Numerose proteste sono arrivate dall'opposizione che denuncia l'allontanamento dell'Italia dai livelli di istruzione Previsti dal Trattato di Lisbona e dell'Unione Europea che chiede invece di investire sulla formazione scolastica Anche gli ultimi studi Oxe e della Banca d'Italia raccomandano di investire in istruzione Mettendo in evidenza i benefici legati Ad una maggiore preparazione Il ministro Sacconi ha deciso di fare carta straccia dell'obbligo scolastico ha dichiarato l'ex ministro dell'istruzione L'emendamento cazzola al DDL lavoro che introduce la possibilità di assolvere l'obbligo scolastico nell'apprendistato traduce in Legge la proposta di Sacconi di qualche settimana fa di mandare i giovani a raccogliere le arance al posto degli immigrati a Rosarno È stato il commento della rete degli studenti medi La Gelmini parla di riforme rivoluzionarie Noi preferiamo parlare di un salto indietro epocale Al nostro paese servirebbero un sistema efficace di diritto allo studio e un investimento in scuola, università e ricerca al pari degli altri paesi europei Ma il governo ha in serbo un altro disegno di futuro in cui regnano la precarietà, la povertà, il lavoro nero e le diseguaglianze Siamo decisamente contrari Prevedere questo, ha dichiarato Mimmo Pantaleo, segretario della FLCCGL Significa mettere in discussione l'essenza stessa del obbligo scolastico che va assolto nei percorsi di istruzione e formazione E non attraverso l'apprendistato che nella maggior parte dei casi si traduce in un lavoro vero e proprio dove di apprendimento c'è ben poco L'emendamento è stato approvato frettolosamente e senza consultare le parti sociali Ha ribadito Giogrio Santini dell'Aciso Ma a parte le singole posizioni politiche c'è un rischio concreto Quello del conflitto tra le norme che stabiliscono l'obbligo scolastico e la nuova disposizione Foto da Greob Sfili.org